Come detto più volte è un festival che mira a recuperare bellissima musica della prima metà dell'Ottocento, quel periodo in cui la musica raggiunge un equilibrio che ancora oggi apprezziamo davvero tantissimo. Saranno 11 gli spettacoli per 4 produzioni musicali importanti, un'opera, un concerto lirico-sinfonico, poi due produzioni con canto e pianoforte, uno intitolato Il buffo all'opera e l'altro I marchigiani alla scala. Quello che mi piace sottolineare è che sta crescendo il festival, abbiamo quest'anno oltre alle tre città storiche fondatrici del festival Fano, Pesaro e Urbino anche Fabriano. I compositori che all'epoca erano famosi quasi quanto i grandi Rossini, Berlini e Donizetti, poi oscurati da questi grandi astri, sono caduti nel dimenticatoio ma non del tutto. L'opera che ad esempio quest'anno presenteremo, proprio qui al Teatro della Fortuna di Fano il 24 di agosto, è un'opera di un compositore maceratese, marchigiano, Lauro Rossi, che scrisse la sua opera più famosa, La casa disabitata, nel 1834 e che esordì alla scala di Milano. Questo è un fatto che già dimostra l'importanza di questi compositori anche all'epoca e di questo compositore in particolare. Quest'opera fu eseguita per 26 serate di fila e dieci anni dopo che Lauro Rossi era stato in giro per il mondo a Cuba, in Centro America, è tornato a Milano e il pubblico la volle risentire in una versione un po' rivista che è quella che noi eseguiremo qui al Teatro della Fortuna il 24 agosto. Abbiamo dato spazio, voce, in questo festival anche a Nicola Vaccai, secondo grande compositore pesarese, di fatto anche se è nato a Tolentino, lui era di famiglia pesarese, ha vissuto ed è morto a Pesaro e di lui il 25 agosto al Teatro invece Rossini di Pesaro, eseguiremo un cosiddetto profilo d'autore, quindi un concerto con brani tratti dalle sue opere che non si sentono più. Praticamente oggi la produzione di Vaccai è scomparsa se non per Giulietta Romeo che è l'unica che è rimasta ogni tanto in cartellone.